Il concerto di Natale nel nome della solidarietà è davvero anche l'occasione di sentire e di apprezzare musicisti diversi tra di loro come è il caso dei due musicisti che tra poco vi presenterò. Il primo è un musicista equadoregno, è famoso in tutto il mondo e si chiama Leo Rojas. Il secondo è il maestro flautista che davvero tutto il mondo ci invidia, Andrea Griminelli. Insieme questa sera ci regalano una versione speciale di Alleluia. Alleluia 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 di Alleluia